Bentornati sul canale di giornalismo del Cuore Italia 1. Le ultime notizie di oggi like L'ex Miss Italia riceve un messaggio d'affetto da parte dei suoi sostenitori Nella casa più spiata d'Italia inizia una nuova giornata.Nell'attesa della puntata di questa sera, i VIP, dopo aver fatto colazione, hanno deciso di spostarsi in giardino per godersi questa splendida giornata di sole D'improvviso, inaspettatamente, a sorvolare la casa è proprio un aereo, mn tu la nostra vittoria Cuore Rosso fans È questo il messaggio che i fan hanno voluto destinare a Manila per farle sentire tutto il loro sostegno e tutto il loro affetto Grazie! esclama la VIP con il cuore pieno di gioia e con un gran sorriso stampato sulle labbra Una bellissima sorpresa che sicuramente ha dato la carica giusta a Manila per affrontare questa giornata in attesa del verdetto definitivo del televoto Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video